Senti, sul campo dei campioni d'Italia giocare così è un'ottima indicazione, ce l'ha detto anche il coach. Eh no, giocare così è bene, però manca sempre quel qualcosa a fine set, soprattutto nei set in cui abbiamo perso i vantaggi che ci manca e che ci serve per le prossime partite e per il resto della stagione. Quindi sì, è un buono spunto, ma rimane la mare in bocca. Rimane la mare in bocca perché appunto perdere i vantaggi assaporando anche il gusto di magari arrivare al tie break a un certo punto c'è stato, insomma ci avete creduto, ci avete pensato davvero? Eh, arrivare al tie break ma anche andare sopra 2-0, cioè c'erano tante possibilità che non abbiamo sfruttato bene, quindi dispiace e ci mettiamo subito sotto a lavorare su questo aspetto anche in allenamento. Il coach dice, buone indicazioni, manca sempre un po' di esperienza, quindi bisogna lavorare per questo e già dalla prossima bisogna far vedere una reazione forte. Esatto, sì, è probabile che comunque sia l'esperienza che manca per quei punti che dicevo prima, si fa allenandosi, giocando, quindi abbiamo margine di miglioramento ancora, quindi abbiamo un lungo cammino da fare, quindi ci crediamo, questo è sicuro.